Sono Antonio Serra, mi occupo da anni di sicurezza sul lavoro, faccio parte dell'equip dei docenti formatori dello Stilab e oggi sono qui per tenere un corso per dirigenti. Siamo un bel gruppetto, il corso sta funzionando molto bene, c'è una interazione particolare fra docente e cosiddetti discenti e quindi pensiamo di chiudere questa sera con una verifica che vedrà riconosciuti i requisiti di questi dirigenti che partecipano al corso. Grazie